ben trovati davide il critico torino bologna 1 a 0 appena tornato a casa dopo tre ore passa di viaggio sono le 2 50 sono stanco morto una serata orribile una serata orribile primi 45 minuti primi 45 minuti ragazzi questo bologna è stato inguardabile oggi inguardabile inguardabile la responsabilità ce la dividiamo è ce la dividiamo perché si da una parte l'allenatore sicuramente non l'ha studiata al cento per cento perché sia stati 45 minuti e 10 minuti del secondo tempo a cercare di partire dal basso quando c'è un torino che ti pressava nella tua area probabilmente a una certa palla un po più lunga palla un po più lunga non pedalare però palla al centro avanti quando infatti l'abbiamo messo su la partita è cambiata da così a così perché è entrato zirze e noi abbiamo iniziato a giocare a calcio in tutte le squadre serve un centro avanti adesso complimenti a tutti per averci regalato delle grandi soddisfazioni in questo periodo con dei falsi nuove però la adesso la favola è finita torniamo a giocare come dio comanda e mettiamo il centro avanti perché nel calcio serve il centro avanti siamo andati avanti di pagliative perfetto tiago hai trasformato l'acqua in vino perfetto adesso non serve adesso non serve ci abbiamo del vino buono possiamo già metterlo poi io non sono qua tanto ad arrabbiarmi con tiago motta perché sono sincero ragazzi sono sincero io sono molto della filosofia squadra che vince non si cambia anch'io avrei messo barro anche io i primi 45 minuti l'avrei gestita così bravo iuric ad aver studiato al cento per cento il bologna e ad averci chiuso qualsiasi tipo di di intuizione potessimo avere quindi da una parte tiago motta non ha fatto la scelta giusta dall'altra ragazzi anche gli undici in campo ne è che ci ha regalato delle gioie moro sono più i passaggi che ha sbagliato che quelli che ha fatto dritti moro partita insufficiente i due centrali dietro i due lucumie sosa nel vantaggio del toro un qualcosa di ripilante giro giro tondo casca al mondo casca giù la terra lucumie sosa in terra c'è l'fnx e abbiamo preso un gol da scuola calcio sembrava avesse i pattini c'è lucumie sguillato per terra sosa ne parliamo che sosa noi noi tutte le partite io con l'intero ho visto una grande prestazione di sosa però oggi è tornato il sosa noi anche oggi siamo andati a giocare qui lasciamo il pegno perché noi tutte le domeniche abbiamo la tassa sosa tra l'altro oggi ha dato il meglio di sé quindi la paghiamo due volte la tassa sosa ecco due volte la tassa sosa dalla prossima dalla prossima squadra che vince non si cambia abbiamo perso abbiamo perso quindi squadra che perde si può cambiare si può cambiare quindi sumarò può tornare al suo posto e davanti mi piacerebbe non vedere più barrow falso 9 io adesso che sono tornati zirze e arnautovic io barrow lì davanti non lo voglio più vedere basta bonale bonale abbiamo visto un qualcosina con l'inter qualcosina abbiamo visto un giocatore che ci aveva un po più voglia anche lì abbiamo visto un miglioramento del giocatore no è che siamo stati abituati per dei mesi a vedere della tristezza l'unica volta che fa quattro corsi di fila senza sbuffare abbiamo visto un miglioramento no abbiamo visto un miglioramento abbiamo visto una partita di un giocatore normale solo che le aspettative dopo mesi di tristezza le abbiamo abbassate a livelli esponenziali quindi con l'inter ci sembrava un barrow fenomenale oggi le torne barrow perfetto perfetto da la lazio scegliamo zirze o arnautovic perché ragazzi noi in rosa abbiamo anche marco arnautovic e sto perdendo una zero col torino che ha fatto una signora partita e ha meritato di vincere marcone me lo metti su tiago marcone me lo metti su marcone me lo metti su anche perché se alla fine mi viene sotto la curva e mi guarda con quegli occhietti lì e si toglie lo scotch dalle mani lo butta per terra in modo un po nervoso poi io inizio a pensare che magari il gruppo è un qualcosa di meraviglioso ma non so più se il mio nove fa parte di questo gruppo capito è perché sia te tiago che il buon marco ci avete dato delle soddisfazioni ultimamente marco è stato un trascinatore l'anno scorso e anche i primi mesi di questo bologna te negli ultimi mesi ci stai regalando un sacco di gioia ma perché perché non riusciamo perché non me l'hai messo su oggi perché non me l'hai messo su oggi io spero sia stato solamente perché non lo vediamo in forma al cento per cento perché marcone me lo devi mettere su senza nulla togliere a zirze perché zirze oggi è entrato ha cambiato la partita zirze è un giocatore forte 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 senza alcun dubbio anche oggi mi è piaciuto tanto però ragazzi tenere in panchina uno come arnautvic in una partita del genere io lo trovo surreale poi magari non stava al cento per cento quindi io lascio il beneficio del dubbio tiago motta mi sta facendo sognare e sto con lui però bisogna trovare un equilibrio per riuscire a integrare il nove nei nostri schemi perché è un giocatore veramente forte ed è questa la cosa che ci può mancare per raggiungere quell'obiettivo un'alchimia tra il gioco di tiago motta e il nostro cento avanti io non credevo oggi di non vedere entrare il numero 9 non ci credevo e invece non l'ho visto entrare l'ho visto venireci a salutare alla fine della partita comunque a me interessa più il risultato del bologna che gli affari di tiago motta e di arnautvic il bologna di oggi non ha meritato la vittoria fin della partita primo tempo non riusciamo a superare la metà campo perché non ci riusciamo non ci riusciamo cambiaso torna un giocatore classico c'è un giocatore che sono stato abituato a vedere negli ultimi mesi non è una partita di cartello quindi lui torna ad essere cambiaso partita insufficiente posce sbaglia degli stop incredibili ecco si spenta anche la luce si accende più distrutto tutto la portiera posce sbaglia degli stop incredibili quindi anche la sua partita non mi ha fatto impazzire per niente moro non mi è piaciuto per niente i due centrali poco e male poco e male poco e male davanti barro basta per quanto riguarda soriano si ha provato orsolini non ti puoi mangiare quei gol e non di poi quanto sei messo a tirare nel secondo tempo quanto ma io rincuro ti giuro da quando hai puntato la porta quando ti hanno chiuso mi sembra sia passati 15 minuti cioè bisogna tirare lì bisogna tirare bisogna tirare quella un'occasione persa è un'occasione persa e fa rabbia perché in una partita in cui non avevi meritato di portare a casa nemmeno un punto con quell'occasione lì potevi portare a casa un puntino per te e toglierne due a una che è molto vicina a te il bologna torna a casa torino molto stanco io perlomeno molto stanco io molto stanco il bologna invece torna a casa con pochissimi punti zero un bagno di umiltà un grande bagno di umiltà il video l'ho fatto adesso che è l'alba fra un po uscirà domattina in modo tale che magari voi riusciate a dormire e arriveranno anche le pagellanze in cui ci concentreremo sui singoli e sul nostro allenatore ti ricordo iscrivetevi al canale mette mi piace al video di andare su instagram seguire la pagina davide il critico forza bologna tutti con la lazio perché questa questo è stato un passo falso ma bisogna restare vicini a questo gruppo che ci ha regalato veramente tante emozioni quindi stiamo qua coi nostri grazie a tutti grazie a tutti